Il debutto era avvenuto nel mese di maggio sulla strada provinciale 188 del Colle Braida in occasione del passaggio del Giro d'Italia sulla spettacolare Arteria che partendo dal Lago Grande di Avigliana sfiora la Sacra di San Michele. Ora i cartelli con le indicazioni tecniche per i ciclisti sono stati installati anche sui 18 chilometri della provinciale 50 che collega Ceresole Reale con i 2.641 metri del Colle del Nivolè nel cuore del Parco Nazionale Gran Paradiso dove il Giro d'Italia è approdato nel 2019. Utilizzando simboli internazionalmente riconosciuti i cartelli installati dalla città metropolitana di Torino forniscono ai sempre più numerosi ciclisti che salgono al Nivolè informazione sulla distanza percorsa e da percorrere per raggiungere il Colle sulla quota raggiunta e sulla pendenza del tratto di strada che stanno percorrendo. Oggi siamo venuti qui al Colle del Nivolè a Ceresole Reale a inaugurare questi cartelli lungo l'SP50 e abbiamo intenzione di proseguire con le altre salite storiche e con le nostre territorio, dal Colle dell'Istra, il Colle delle Finestre a tante altre salite che sono magari note o meno note ma sicuramente molto frequentate dai ciclisti e dai cicloturisti. L'altro tassello molto importante riguarda appunto la viabilità Tukur così come la conosciamo nella maniera più classica e quindi un investimento di 600.000 euro grazie ad un accordo con la Regione Piemonte che riguarda l'SP50, riguarda l'SP460, le strade d'accesso al Colle del Nivolè, dove andremo a rifare le barriere lungo queste strade. La ditta è già stata individuata, si è in fase di redazione del contratto, i lavori inizieranno nella seconda metà di settembre, quindi non ancora in pieno inverno ma con la stagione turistica già nel pieno, insomma un po' alle spalle, proprio per evitare di dare disguidi a questo territorio che di turismo vive e che di turismo ha fatto il suo fiore all'occhiello. Un investimento importante sulla sicurezza e un investimento importante che sancisce una collaborazione tra città metropolitana, Regione e gli enti locali che è un po' la chiave per portare a casa dei risultati importanti in questo senso. Diventiamo come le grandi salite storiche, quelle sia italiane che quelle più note del Tour de France, quindi è una grande soddisfazione. Ma c'è il sogno qua, Ceresole, di avere fra qualche anno di nuovo un grande giro su questa salita? Mai porre limiti alla provvidenza. Il territorio intanto saluta e apprezza questa iniziativa della città metropolitana, del resto in questi decenni abbiamo lavorato per un turismo ecosostenibile. Bike Hotel, Ballalbergo Gran Paradiso, ossia quelle di More, di privati, messe a disposizione per un turista che assaggia la montagna non solo a tavola ma anche attraverso i suoi magnifici paesaggi, attraverso la bicicletta. Noi come dicevo prima ci sono dei privati che già si stanno adoperando a questo. Noi come comune anche noi abbiamo una cicloscalata che è quella dove va agli impianti sciistici, dove quest'anno abbiamo inaugurato la seggiovia e quindi ben vengano queste belle iniziative.